Allora andiamo a quattro carte che teoricamente non conosci Teoricamente Una della inizia Allora abbiamo quattro joker Questi joker hanno una particolarità Allora, partendo dal fatto che te li do prima di tutto No, te li do girati in mano Ok Hanno la particolarità che io devo trovare il modo Di fregarti il tuo joker senza che tu te ne accorga Ok, prima ti do anche l'altro E ora trovo il modo di fregarti quello Tu teoricamente non te ne dovresti accorgere Quindi faccio vedere il mio E poi mentre te lo faccio vedere Lo faccio così E adesso è accorto Perfetto, vedi? Adesso io comunque due joker e tu hai due joker Guarda Che caccia abbiamo in mano? Il caccia era di te Ok, gira le caccia Oh, sì Rina Laura Ok, Laura I fatti è domani Guarda Gira, ok Perfetto Allora Io ho quattro cacce Giusto? Uno Uno Due Tre E quattro Ok, tu non conosci queste cacce Ok Allora Sono quattro joker Teni le mani più aperte Perfetto Adesso Ti lascio il joker Va bene? Poi Te ne lascio un altro Ah no, 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 no Aspetta I joker vanno lasciati a testa in due Vado Ok, perché tu non devi vederli Quindi Ti lascio un te l'altro E ora devo rubarti un joker senza che tu te ne accorgi Ok Ok Quindi cerco di illuderti Facendoti vedere il mio joker E poi facendo Ti non sei accorta? No No? Sei sicura? Eh, il mio se ne accorta Ok Io comunque ho ancora due joker Ok Guarda Cosa abbiamo in mano? Quattro joker Girare le carte Ok Ficc Ma lang ospiti Ciasi Ficc Ficc Grazie a tutti.